Il fantastico mondo che scopriamo da bambini è composto di curiosità, scoperte e avventure che formano inconsapevolmente quel know-how che un giorno ci tornerà utile per pensare, ideare, sviluppare, creare. Certe idee ronzano nella testa di un giorno, giovane ingegnere, e continuano tutt'oggi a ronzare qua e là. E che cosa può aver mai acceso la geniale immaginazione di un talentuoso toscano agli inizi del XVI secolo? La natura ispira da sempre. Si rivela agli occhi e alla mente dei curiosi, di chi immagina e vuol vedere una realtà diversa. Sapremo sviluppare qualcosa di innovativo in modo da preservare questo ecosistema meravigliosamente essenziale? Il conto alla rovescia è innescato. Questa la sfida che il futuro, con un vitale bisogno di sostenibilità, ci propone.